Infatti qui siamo sempre appena usciti dalla caverna qua si vede il lago d'idro con la rocca d'anfo qua c'è il nido di mitragliatore che c'era infatti montato qua dentro nella sua trincea e questa era la nostra cannoniera dove siamo usciti noi adesso adesso prendiamo prenderemo le tre linee di trincee e saliremo in cima al montestino bellissimo posto